bella a tutti ragazzi qui con un nuovo video oggi vi farò vedere il migliore tema per cambiare l'icona delle vostre app che infatti come potete vedere sono diverse rispetto a quelle dell'iphone normale e che infatti questo tweak si chiama snowboard ma infatti vi lascio il link del video in descrizione adesso quello che dovete andare a cercare su cidia è questo tweak che si chiama lo aspettate un attimo ragazzi che devo andare a vedere come si chiama questo tweak ok si chiama lotus quindi andare a cercare lotus eccolo qua e dovete andare a installare questo qui poi dopo aver fatto dopo aver andato a cliccare su modifica install andate in impostazione andate su snowboard a cliccare su selezione a tema a cliccare su abilità e quindi poi vi metterà le applicazioni con queste fantastiche icone quindi ragazzi io come sempre vi ricordo lasciare un bel like iscriviti al canale e noi ci vediamo con tanti altri video bella